Uno dei gioielli della mostra è sicuramente questo stagno al mattino di Gustav Klimt. Di Klimt non occorre illustrare la qualità, l'importanza, perché oramai sono nozioni da tutti condivise, conosciute e condivise, ma si è scelto di portare un Klimt meno solito, il Klimt paesaggista piuttosto che il Klimt simbolista del corpo femminile e delle composizioni più conosciute. Vi è una sorta di citazione quasi della poetica impressionista in questo plein air in cui tuttavia vincono e si affermano riflessi freddi, zone cangianti, un'atmosfera sospesa e poetica di cui Klimt sa essere un interprete originalissimo e perfetto. Nella pittura di Klimt che è stata per molto tempo equivocata e considerata una pittura di tipo decorativo, c'è invece non soltanto un pensiero profondo e un ragionamento, una meditazione sulla pittura e sulle possibilità dei generi pittorici, ma vi è un'adesione a tematiche, diciamo così, di adesione, di riscoperta o di riproposizione della natura che sono di una originalità difficilmente imitabile. Eppure Klimt ha avuto molti imitatori e molti seguaci anche da noi, anche in Italia, i Klimtiani, i Klimtiani raffinati, i Klimtiani che riescono a condividere il ragionamento e che riescono a condividere la finezza del suo lavoro come Teodoro Volferrari, a lui si ispirano a lui si ispirano e da lui traggono in qualche modo la linfa per la propria produzione. Ma Klimt rimane tuttavia un'irraggiungibile meta.